Il Pallavolo Padova Il Pallavolo Padova L'atleta è ricordato in Italia per la partita che la Nazionale Azzurra disputò il 6 luglio del 2007 in World League contro il Giappone. In occasione di quella sfida i ragazzi della loro accolcio montali vennero sconfitti per 3 a 2 e lo schiacciatore misa a segno ben 23 punti. Dall'estremo oriente a Padova perché? Perché voleva partecipare nel campionato di Pallavolo italiano e ha visto che è una squadra che comunque si impegna molto e anche lui ha detto questa è la mia squadra. E' la prima volta che viene a Padova quindi sta cercando di abituarsi e comunque piano piano ce la metterà tutta. E dal punto di vista tecnico cosa può dare Ju alla formazione patavina? E' un giocatore molto completo, dotato molto tecnicamente, un ragazzo giovane che ha una grossa volontà di mettersi in luce il nostro campionato. Io penso che possa dare un grossissimo contributo alla nostra squadra in tutti i fondamentali. Dopo le visite mediche di Rito, Ju sarà quindi a disposizione del team guidato da Lorenzo Bernardi.